Ma è chiaro il perché non sia presente, perché oggi ci troviamo in un'area dove è stata avviata la procedura di decadenza nei confronti dei pescatori di Oneglia. Mi fa piacere che il Presidente Lupi, nella suo saluto, abbia evidenziato l'importanza di questa struttura a servizio della città e a servizio dei pescatori. Il fatto che il Sindaco non sia presente è perché forse non ha voluto metterci la faccia davanti ai pescatori, davanti alla città, perché l'azione, l'attività amministrativa che ha intrapreso, un'attività come abbiamo già specificato, un'attività solitaria in tutta la regione è il primo caso e come ha evidenziato in alcuni passaggi ha l'intenzione di privare i pescatori di questo infopoint, che è la loro casa, è il loro punto di evidenza e di specificità sulla città. Dunque, il fatto che il Sindaco oggi non ci sia è la dimostrazione che quello che ha messo in atto non ha comunque la capacità di sostenerla davanti alla città e davanti ai pescatori. Questo è un fatto gravissimo e noi di Imperia Rinasce e comunque le opposizioni sicuramente faranno di tutto perché questo non avvenga, che ci sia una discussione aperta nella trasparenza e nel rispetto delle regole.